Ciao a tutti, sono Gabriele Cugno, ho 26 anni e vengo da Torino. Nella vita sono un musicista, in particolar modo un violinista. La mia più grande passione è quella della recitazione, tant'è che sin dai miei primi anni di vita, 3-4 anni, rendevo di medesimarmi in tutti i personaggi che guardavo in tv, quindi serie tv, film, cartoni, e questa passione è cresciuta tanto nel tempo, sin da diventare la mia più grande aspirazione di vita. Amo tantissimo stare in mezzo alla gente, fare concerti, solunare i matrimoni, essere artista tutto tondo è la cosa che mi contraddistingue di più. Come hobby pratico sport, in particolar modo il tennis. Vi mostro i miei mani. Grazie a tutti.